Amici di Alessandro Tech World, video che sto girando in 4K con il flash attivo perché è praticamente buio qui in camera mia. Questi due nuovi prodotti che a breve recensirò su il mio canale. Ora andiamo fuori e andiamo sulla solita lavanda per vedere come reagisce questo Samsung Galaxy S6 al buio. Devo dire che il flash è molto potente, ci possiamo mettere circa 3-4 metri, adesso siamo a un monte 3 metri e questa è la qualità del Samsung Galaxy S6. Tappiamo sulla lavanda, perfetto. Andiamo a fare un fuoco sulla nostra tartarughina e i nostri fiorellini. Eccola qua, la solita tartarughina e i fiorellini. Vediamo più da vicino come reagisce il flash e l'autofocus. Devo dire molto molto bene. Anche qua adesso ci allontaniamo a circa 3-4 metri, così vediamo come reagisce il flash da lontano. Quindi ci allontaniamo un attimo. Qui siamo a un buon 2 metri e mezzo. E come potete vedere devo dire che reagisce bene. Tappiamo sulla tartarughina e ora rimettiamo in autofocus. Bene, il paesaggio chiaramente è buio quindi il flash serve a poco, però devo dire che l'apertura focale di questa fotocamera è molto buona. Adesso andiamo a vedere la nostra lavanda. Andiamo a vedere sulla lunetta. Ecco qua la solita lunetta. Magari ci avviciniamo. E ora andiamo sui nostri pinetti. Eccoli lì. Ci avviciniamo pian pianino e vediamo com'è la resa. Magari andiamo un po' più vicino. Ecco qua i nostri pinettini. Da dire che la resa anche di notte è molto buona. Vedete che è messo a fuoco. Ora andiamo un po' più da vicino. Magari ci spostiamo di qui. Tappiamo sull'annaffiato ino. Vuol dire che funziona bene. Anche qui ci allontaniamo un po' e vediamo come funziona il flash. Vuol dire funziona. Funziona molto bene. Anche una nostra, una mia, una ragazza che ha commentato il video ha chiesto come si vede la pelle. E devo dire che con il flash funziona bene. Però chiaramente più lontano si va e meno luce riesce a catturare il sensore. Quindi chiaramente più sgrana. Però vedete che da vicino la definizione è molto buona. Chiaramente. Va bene. Dai per questo video credo che sia tutto. Vi lascio con la solita tartarughina e i fiorellini. Vi ricordo di iscrivervi al canale e mettere un like ai video. Ciao ciao. Ciao ciao. Grazie a tutti.